Sono stati tanti i giovani calciatori nuoresi del settore giovanile del Santo Predu che stasera hanno voluto incontrare Ramos Emerson, difensore del Livorno, squadra con la quale qualche settimana fa ha conquistato la promozione in Serie A. Un apporto determinante alla vittoria degli Amaranto, quello di Emerson, che ha iniziato il suo volo che lo ha condotto tra i professionisti proprio a Nuoro, tra le fila della Nuorese. A Nuoro per qualche settimana di relax, città in cui ha messo su famiglia, Emerson ha voluto confrontarsi con tanti ragazzi del settore giovanile. Un incontro ospitato nel campo sportivo di Saesuris, bambini che forse non ricordano le sue gesta nello stadio Frogheri, con le punizioni al fulmico ottone o le reti da centrocampo, ma che sicuramente lo hanno visto sugli schermi televisivi, oppure hanno sentito raccontare le sue gesta dai genitori. Con la semplicità e la gentilezza che lo ha sempre contraddistinto, Emerson si è fatto sommergere dall'entusiasmo dei calciatori in erba, che sognano un domani di seguirne le orme. Quella di Emerson è una storia che viene da lontano, dal Brasile dove il campione è nato, anche se si è realizzato professionalmente come uomo proprio nel capologo barbaricino. Incontrare sportivi come Emerson, esempi di correttezza e di sportività, ma anche di tenacia nel raggiungere i propri sogni, non può che far bene per chi ora vede il calcio come dovrebbe sempre essere, un gioco.